Musica Pasticceria Gelee vi aspetta per augurarvi un buon Natale con le nostre tradizionali specialità, panettone, pandoro, le decorazioni su di essi tutto ciò che riguarda la cioccolata, tutto ciò che riguarda le cosine piccole per i bambini e quest'anno abbiamo anche la novità, l'iPhone di cioccolata. Buon Natale a tutti, vi aspettiamo numerosi. Cartomax in piazza Cesare Battisti a Montevarchi vi augura buone feste e sulla slitta di Babbo Natale vi propone oggettistica, giocattoli, gadget, libri per i vostri regali. Quest'anno da non perdere Gorgeous Peppa Pig E Top Model Roberta Vestrolli in via Retina 279, Levanella, Montevarchi vi augura buone feste e sulla slitta di Babbo Natale vi propone pelletteria, accessori e per rinnovare i vostri capi preferiti abbiamo il servizio Sartoria. Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori